Cari amici, è per me motivo di dispiacere non poter partecipare ai due giorni di lavoro che voi vi apprestate a seguire qui nell'Università di Pollenzo su una tematica importante come il rapporto del cibo nella cultura ebraica. Purtroppo precedenti impegni mi costringono a lavorare fuori sede, voglio tuttavia non solo darvi il benvenuto qui a Pollenzo, ma testimoniare come questo convegno è molto importante non solo per il nostro Ateneo. Innanzitutto è il lavoro congiunto di due Università, la prestigiosissima New York University e la nostra piccola Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Quindi vorrei ringraziare i coordinatori Asia Dinner e Simone Cinotto per aver realizzato questo evento, ma vorrei dire anche che che i lavori che voi vi apprestate a realizzare saranno elementi di importante riflessione, perché attraversano una dimensione culturale, spirituale, formativa che è estremamente importante, non solo per le comunità ebraiche, ma anche per le popolazioni che sono entrate in contatto con queste comunità e per un impianto, posso dire gastronomico, di rilevanza straordinaria per il patrimonio dell'umanità. Da sempre questa cultura ebraica ha dato valore al cibo e se c'è un elemento distintivo di questa fase che noi stiamo attraversando, se c'è un elemento caratterizzante della crisi, anche morale che stiamo vivendo, sta nel fatto che negli ultimi anni il cibo ha perso valorialità, è diventato commodity, merce. Quei baluardi di cultura, di tradizione che mantengono la valorialità del cibo sono per noi elemento di grande conforto, ma anche di estrema modernità, non si butta via l'esperienza, la tradizione, il senso di comunità che attraverso il cibo i nostri popoli hanno voluto esprimere. Anzi, questo patrimonio va preservato, va rimigurito. Ecco allora che la riflessione che voi farete in questi giorni sarà valida innanzitutto per i nostri studenti che sono sensibili a questo tipo di conoscenze, ma anche per trasmettere i lavori che voi fate fuori dal contesto pollentino e magari rendere partecipi attraverso i nuovi media altre personalità, altri soggetti che sono interessati ad approfondire questo tema. Quindi grazie di cuore per il lavoro che svolgerete in questi due giorni e permettetemi di mandare un caloroso saluto a due amici, Monio Vadia e Gad Lerner, coi quali condivido un lungo percorso di vita e che con il loro comportamento e la loro personalità hanno dimostrato a questo nostro paese, l'Italia, quanto è importante mantenere legami con la cultura ebraica e con il patrimonio che essa ha espresso anche e soprattutto per le nostre comunità. Grazie di cuore a tutti per essere a Pollenza. Grazie. Grazie. Grazie.